Sapevo che cosa ci aspettava qua, conosco troppo bene questo campionato per far sì che non si poteva arrivare qui pronti, invece noi siamo arrivati pronti a fare questo tipo di gara perché sapevo che la loro fisicità, il loro modo verticale di giocare, il loro stato di salute, anche sia mentale che fisico, perché comunque non perdono dall'inizio del campionato, c'è la grande fiducia, una squadra che ci avrebbe aggredito come hanno fatto nella prima mezz'ora e di conseguenza dovevamo fare anche questo tipo di partita e secondo me i ragazzi l'hanno fatto bene perché hanno lottato, hanno combattuto soffrendo perché ci mancherebbe altro che non abbiamo sofferto, però se fossimo venuti qui al contrario non pronti a questo tipo di gare, secondo me oggi il punto non l'avremmo portato a casa, quindi bravi ragazzi a interpretarla in questo modo. In questo momento la cosa importante è la continuità, poi sono io il primo a voler vincere le partite e a voler centrare la vittoria il prima possibile e in maniera più costante possibile, però la squadra non devo spendere troppe parole per tenerla su perché la squadra è convinta di quello che sta facendo, è sulla strada giusta.